Marco Ezechia venne al mondo a Verona in una famiglia di religione ebraica la notte del 6 novembre 1835. Erano i tempi della dominazione austriaca sul regno Lombardo-Venegro. Stefano, la prima domanda, forse la più banale, ma anche quella che ci sembra più opportuna a fare come prima, è perché un libro illustrato su Cesare Lombroso? Stefano, mi sentirei di dire perché fin da bambino ho sempre sentito parlare di Cesare Lombroso, addirittura vivendo a Roma passavo sempre a via Cesare Lombroso nella zona di Torre Vecchia, anche se in teneretà ho cominciato sempre a leggere cose che riguardavano la vita di questo personaggio. Poi man mano che sono andato avanti con gli anni mi sono interessato sempre di più, anche se poi mi sono diplomato in Accademia di Belle Arti. In realtà c'è stato un periodo in cui ho avuto uno sconfinamento verso studi scientifici e quindi mi sono appassionato un po' all'anatomia, alla storia della medicina, ero studente in scienze biologiche, non mi trovavo bene. Il percorso universitario andava veramente, veramente male finché un giorno non capì che in realtà non mi interessava diventare uno studioso, ma mi interessava lavorare proprio su tutto questo, fantasticare sul mondo della scienza, sulla storia della scienza, ma vista, non dico a modo mio, quindi essendo anche molto rispettoso, ma raccontandola seguendo quelle che potevano essere le mie pulsioni espressive. E Lombroso già dall'epoca era uno di quei personaggi che mi sarebbe piaciuto affrontare. E poi, nulla, negli anni c'è stato l'incontro con il Museo Lombroso, museo che naturalmente io non sono riuscito a vedere fino a pochi anni fa, perché mi ricordo che chiaramente, come dicevi tu Cristina, il museo qui è aperto da dieci anni, ne festeggiamo stasera il decennale, ma ricordo che varie volte venni a Torino prima di questi dieci anni, ma non riuscivo a trovare una sede precisa, non sapevo dove andare a trovare quelle che potevano essere le collezioni. E quindi è un'idea che poi ho coltivato in questi ultimi mesi addirittura, finalmente capendo che era venuto il momento in cui potevo lavorare su Lombroso. Proprio in maniera incosciente, dico mi metto a fare un libro su Lombroso, che bello, sono contentissimo, però anche lì in quel momento è venuta la paura, perché mi sono reso conto di quanto fosse particolare, importante e controverso il personaggio su cui stavo andando a lavorare. E quindi non mi ero reso conto di tutto quello che ci poteva essere dietro, tutte le controversie, anche le chiacchiere, anche le cose stupide, e quindi mi sono posto il problema come lavorare su Cesare Lombroso. E semplicemente mi sono detto ci lavoro tranquillamente in maniera totalmente onesta e lo racconto esattamente come mi piacerebbe leggere un qualcosa di scritto e disegnato su Lombroso. Quindi in tutta onestà, tranquillità, ho cominciato a disegnare e a scrivere ed è nato questo libro. Ecco, tengo a precisare che appunto, come ha raccontato Stefano, il libro è nato da una sua ricerca e solamente nella fase finale, direi quanto tempo fa, un paio di mesi fa ci hai contattato a lavoro quasi ultimato chiedendoci qualche dettaglio di qualche immagine o fotografia che poteva ancora essere utile per corredare il tuo lavoro. Però è stato fatto in totale autonomia e quando l'ha presentato a noi appunto poco tempo fa siamo rimasti davvero entusiasti del lavoro che si è capito che era stato fatto. Chiaramente, perché diciamo per me essere qui stasera è veramente un qualcosa che mi fa molto molto contento perché vuol dire che il lavoro che ho fatto di ricerca, anche, sì, la definirei ricerca perché a livello anche di illustrazioni, di quello che ho voluto disegnare, non dico che c'è invenzione perché tutto quello che poi all'interno del libro è vero, semplicemente è visto da un occhio particolare, dal mio quindi ho raccontato, avrei potuto intitolarlo tranquillamente il mio Lombroso cioè è un mio punto di vista particolare, affettuoso da un certo punto di vista, con tanta stima da un altro punto di vista e però sorridendo su alcuni punti, come abbiamo visto Ti fermo perché diamo la parola a Massimo e su questo discorso di Lombroso ci torniamo dopo Nel 1876 Cesare Lombroso si trasferì con la sua famiglia a Torino dove divenne professore ordinario di medicina legale I Lombroso si stabilirono in un appartamento in via della Zecca 33, poco distante dall'università ma assai più modesto delle dimore in cui avevano vissuto in precedenza Qui i bambini si trovarono a giocare tra le scartoffie e i libri del padre baloccandosi con scheletri, crani e reperti criminali ammassati ovunque nelle stanze Erano i tempi che videro affacciarsi alla ribalta Pinocchio, uno dei personaggi italiani destinati a diventare più noti L'avventura del burattino di legno scaturite dalla fantasia di Carlo Lorenzini, detto Collodi cominciavano allora ad apparire a puntate sulle pagine del Giornale dei Ragazzi Sicuramente i bambini di casa Lombroso, a vezzi per educazione alla catalogazione antropologica non poterono fare a meno di notare che quel pupattolo di legno aveva una capoccia spropositata con una fronte spoggente, gli occhi piccoli piccoli distanti tra loro e vispi come quelli di un pesce gatto e la bocca enorme che gli solcava il volto da una parte all'altra Forse pensavano a Pinocchio come a un Giacomo Leopardi dal naso lungo accuminato ancora più rachitico di come fu il poeta dell'infinito Inoltre, quella creatura generata contro natura dimostrava una sorprendente sopportazione del dolore tanto che una volta non si accorse di essersi bruciata ai piedi Si poteva dunque affermare con certezza che Pinocchio fosse un eclatante caso di delinquente nato Fu così che in Paola, la primogenita di Cesare Nina, germogliò la passione per la letteratura e l'illustrazione per l'infanzia Diventò una scrittrice e studiosa di libri per bambini e ragazzi Scrisse numerose storie di successo firmandosi Zia Mariù e fu tra i fondatori del Corriere dei Piccoli Grazie Massimo Bene, dopo tutte le tue ricerche e le indagini che idea ti sei fatto di questo personaggio, di questo scienziato? Allora, è difficile dirlo perché credo di averlo anche idealizzato molto perché al di là del discorso dello scienziato, dell'antropologo, del criminologo però ha avuto una vita avventurosa in una maniera incredibile cioè se pensiamo tutto quello che lui ha fatto nel corso della sua vita tutti gli spostamenti che ha avuto due guerre di indipendenza, le campagne durante il brigantaggio la direzione dei vari istituti, dei manicomi, gli studi la quantità di scritti pressoché spropositata anche con poi una capacità di scrittura del tutto particolare perché molti l'hanno per esempio accostata da alcuni esponenti della scapigliatura cioè proprio per la capacità di raccontare determinate cose che avevano a che fare con l'ambiente scientifico ma raccontate con una sapienza di scrittura che erano in grado di catturare chiunque E tu parli dell'influenza ad esempio che Paolo Marsolo ha avuto in Cristo Marsolo sicuramente ha avuto un imprinting importantissimo su Cesare Lombroso e probabilmente è quello che ha un po' indirizzato tutto il corso della sua vita quindi se lui non avesse dato dei consigli proprio chiave base a Lombroso probabilmente avremmo avuto un letterato avremmo avuto una persona che si sarebbe occupato di altro in realtà è lui che ha proprio ascorto questa sua passione questa sua vena scientifica e ha fatto sì che sbocciasse nel modo giusto quindi diciamo una mia duplice visione di Cesare Lombroso da una parte lo ammiro tantissimo l'ho anche mitizzato cioè diciamo che lo guardo con ammirazione quando per esempio ho delle difficoltà a fare delle cose a fare degli spostamenti anche tra una città all'altra e penso invece lui ai suoi tempi che veramente si spostava dal nord al sud il suo viaggio a Mosca in Russia però ecco poi mi fa sorridere la posizione di uomo del suo tempo legata al positivismo legata anche a determinate chiusure mentali che lo hanno portato poi a non guardare oltre e poter far tesoro di quelle che erano delle intuizioni che sarebbero potute essere geniali se fossero probabilmente andate in un altro senso è chiaro che erano altri tempi c'era un altro modo di pensare per questo mi fanno sorridere anche determinate affermazioni nei confronti di Nina determinati aneddoti legati proprio alla sua vita quindi diciamo lo ammiro tantissimo diciamo chi era Nina Lombroso quella che è diventata poi sua moglie Nina De Benedetti che diciamo fu colei che gli fece dimenticare Eloisa il primo grande amore che lo tramotizzò probabilmente perché così raccontano le figlie così raccontano addirittura si dice che scrisse tantissime lettere che lui non inviò mai e quindi meditò addirittura il suicidio quando fu rifiutato da questa ragazza ma in realtà lui non si dichiarò quindi in realtà non sussiste il fatto A Torino Cesare Lombroso creò il museo che aveva sognato per tutta la vita un tempio dedicato alla criminologia e all'antropologia forense zeppo dei reperti raccolti nel corso della sua carriera il museo nacque inizialmente in maniera spontanea a casa sua in via della Zecca ma data la crescita incontrollabile del numero di pezzi venne presto trasferito in un locale in via Po che fungeva anche da laboratorio nel 1884 in occasione dell'esposizione generale italiana al Parco del Valentino alcune delle collezioni del museo vennero presentate al vasto pubblico nel 1896 avvenne quindi il trasferimento in via Michelangelo 26 organizzato da Mario Carrara assistente e genero di Cesare Lombroso che ne divenne anche il curatore oltre a vaste collezioni craniologiche il museo conteneva una serie di maschere mortuari e in cera di criminali deceduti in carcere realizzate da Lorenzo Tenchini il calco in gesso dei volti dei cadaveri veniva ricoperti di cera colorata adagiati su cuscini di seta e accompagnati dal relativo cranio una fascetta numerata riportava il crimine e i dati del delinquente il museo ospitava innumerevoli fotografie di delinquenti catalogati ed escritti con la minuzia di uno zoologo nonché i corpi del reato e armi del delitto per documentare e raccontare il modus operandi alla base del crimine c'erano poi lembi di pelle con tatuaggi conservati in formalina reperti anatomici e strumenti di misurazione erano inoltre esposti disegni oggetti e manufatti provenienti da manicomi e istituti di pena come le brocche per l'acqua con incisi nella smaltatura della terracotta messaggi e disegni relativi a suicidi abusi violenze o alla disperazione per la vita in carcere ecco stefano una cosa che ha particolarmente colpito questa tua biografia di lombroso è proprio la minuzia col quale sei arrivato a disegnare i reperti del museo piuttosto che i personaggi che ruoteano attorno alla vita di lombroso la domanda è questa come è nata questa iconografia lombrosiana in cui si può apprezzare dall'immagine che a volte sembra un disegno tra virgolette antico riproposto in chiave moderna qual è il tuo modus operandi come illustratore? allora prima di tutto essere sempre sul luogo del delitto il museo lombroso per l'appunto è uno di quei luoghi di delitto quindi le varie volte che chiaramente sono venuto qui ho studiato accuratamente tutti i pezzi esposti in particolare gli orci, le brocche del carcere che veramente ognuna di queste racchiude una storia molte volte tragica, drammatica suicidi, abusi se noi le guardiamo e proviamo a chiudere gli occhi veramente sembra di sentire quello che avveniva dentro queste carceri perché sono veramente delle grida disperate così anche come tutte le armi del delitto e tutto quello che è raccolto all'interno del museo chiaramente avendo iniziato a raccogliere questo materiale anche prima dell'apertura ufficiale in questa sede del museo mi sono costruito una mia raccolta iconografica quindi con altre edizioni dei cataloghi ricordo un'edizione credo degli anni 70 ormai fuori commercio dove a livello proprio di apparato di testo e di immagine era riccamente riccamente corredato dove avevo trovato anche degli estratti dai palinsesti del carcere quindi con alcuni componimenti in poesia riferiti appunto all'ombroso e poi comunque raccogliendo raccogliendo tanto ma soprattutto raccogliendo non online perché è chiaro che ormai e mi ricordo che questo discorso lo facevamo anche con te telefonicamente che si trova tantissimo online però poi bisogna sempre verificare che cosa è giusto che cosa è stato travisato come viene commentato quindi preferisco sempre avere una mia buona documentazione bibliografica cartacea di immagini che comunque abbiano una giusta corrispondenza e le tue illustrazioni sono acquarelli? si sono una tecnica mista da matita acquarello ed acrilico e lavoro digitale successivamente quindi ecco ad esempio questo che passa adesso che ha quello scotch quello è in realtà una fotografia antica con veramente un pezzo di scotch così incollato e sul quale digitalmente ho rimesso una mia rivisitazione di questo ritratto del direttore di manicomi insomma quindi è una tecnica mista dal manuale al digitale uso tanti riferimenti per esempio di autori anche appartenenti alla storia dell'arte che mi piacciono per esempio per andare a raffigurare le nozze di Cesare e Nina ho voluto recuperare una vecchia stampa simbolista di Felicien Robs dove ci sono due sposi scheletrici di cui l'uomo ha praticamente un teschio sotto braccio e non voleva essere una copia ma voleva essere un omaggio simpatica a quest'autore che stimo particolarmente dell'Ottocento e credo che potesse essere molto centrata molto esatta per andare a descrivere questo momento senza andare ad essere di Tascalici poi queste per esempio che sono riferite a Verzeni ho voluto un po' inventare quindi da una parte partendo dai ritratti veramente esistenti di Verzeni però rappresentando i suoi delitti come se fossero delle sorte di ex voto popolari quindi andando a raffigurare il momento delittuoso traumatico in una maniera un pochino più idealizzata e meno vera, meno palpa insomma invece ecco momenti come questi che rappresentano proprio pezzi del museo quindi cercando di essere il più fedele possibile nell'andare a riprodurre le illustrazioni e questi orci ad esempio li identifichiamo chiaramente con i pezzi del museo se andate a vedere adesso il museo troverete esattamente quel vaso ho visto che in diversi tuoi lavori non solo questo legato l'ombroso ma anche altri libri che si trovano online tu hai spesso la... usi la modalità di identificare l'individuo che sia adulto, che sia bambino con degli occhi un po' particolari un occhio più piccolo, un occhio più grande, un po' aperto sì perché? allora ci sono due motivi e tra l'altro mi è successo una cosa abbastanza particolare per cui ho cominciato a disegnare gli occhi nei miei personaggi dai 26-27 anni di età perché prima li disegnavo sempre con le orbite vuote come se fossero dei teschi quindi probabilmente in tutto questo ci deve essere anche una valenza psicologica da psichiatrica forse addirittura da andare ad individuare poi ho cominciato chiaramente a disegnare gli occhi però siccome devo avere un problema mentale lì forse andrebbero fatte delle misurazioni non riesco ad essere simmetrico cioè non riesco proprio a disegnare un qualcosa che sia preciso e quindi ho deciso praticamente di trasformare in peculiarità, in stile quello che era praticamente un mio difetto di partenza e quindi ho esasperato questo difetto quindi sproporzionando completamente la dimensione degli occhi e facendolo diventare un carattere dei miei personaggi ma se devo mettermi a disegnare un qualcosa di completamente simmetrico se volessi fare gli occhi uguali per esempio non ci riuscirei ok grazie prego con il passare del tempo le condizioni di salute di Cesare Lombroso peggiorarono e i problemi cardiaci con cui conviveva da molti anni lo portarono a condurre una vita più appartata fu costretto a frequenti soggiorni in località lontane da Torino che giovassero alla sua respirazione divenuta difficoltosa soprattutto nelle lunghe nottate popolate da incubi che lo riportavano agli anni dell'università e ai difficili esami da sostenere negli ultimi giorni della sua vita si dedicò con caparbietà alla revisione di un saggio sullo spiritismo che raccoglieva le numerose osservazioni raccolte durante le sedute di Eusabia Palladini si racconta che a un certo punto abbia sussurrato alla figlia Gina sai è un segreto che penetrerò tra poco morì nella notte del 19 ottobre del 1909 circondato dall'amore dei suoi cari come disposto nel suo testamento il genero Mario Carrara effettuò l'autopsia sul cadavere il cranio e il cervello di Cesare Lombroso vennero accuratamente misurati e furono verificati tutti i parametri relativi alle teorie su atavismo, genio e follia non venne trovata traccia della fossetta occipitale mediana né furono riscontrati caratteri degni di nota all'epoca era in uso donare i propri resti a quei luoghi dove si era consacrata la propria vita nella scienza allo scopo di penetrare i misteri del corpo umano il medico e antropologo Carlo Giacomini aveva espresso questa volontà nel 1898 ed era finito esposto in una teca all'interno del Museo di Anatomia Umana di Torino circondato dalla sua amata collezione di crani e cervelli conservati con una tecnica di sua invenzione Cesare Lombroso fece una scelta analoga rimanendo per sempre nel suo museo dopo la preparazione del volto, del cervello e dello scheletro gli altri resti furono inumati nel cimitero monumentale di Torino ai solenni funerali presero parti esponenti dell'ambito scientifico, intellettuale e politico Chissà se la memoria può impregnare ancora quel cervello oltre alla formalina penetrata per più di cento anni nel profondo di tessuti e vasi preservandolo dal disfacimento e se i pensieri si aggrovigliano potrebbero forse portare alla luce dei dubbi sarebbe in grado quella mente di rivedere le sue teorie alla luce del tempo trascorso e del progresso scientifico E' possibile che giungano fin là i lamenti di chi venne ingiustamente etichettato sulla base di tali teorie o lo svegno silenzioso di tutti quei cadaveri che si sono visti negare la sepoltura perché trasformati in reperti di studio? E chissà se tra i vetri del contenitore rimbombano ancora i versi rabbiosi di quel tal Carlo V giovane poeta criminale condannato dal Tribunale di Venezia e la cui paura più grande era di finire nella collezione di teschi di Cesare l'Ombroso Ombroso, Ombroso, io ti pavento pensando alla tua collezione di teschi che dalle buiose tu sempre accresci il numero grande sul tuo talento nel tuo studio tracce di morte e altro non scorge chi colà viene inorridisce pensando bene che il teschio lascia in carcere morto veder nel novro dei criminali mia testa che non fece tanti mali far ingricciare le carni addosso caro Ombroso non avrà il mio osso e questa è la poesia che chiude il tuo libro e adesso io aprirei invece al pubblico la possibilità di fare domande chiedere curiosità all'autore Sì, sicuramente è uno degli autori che fanno parte della mia formazione che particolarmente mi ha colpito fa tutto il periodo appunto del simbolismo alla secessione viennese e anche quella praghese cioè comunque sono tutti autori tra cui Schill sicuramente non dico che mi hanno influenzato direttamente cioè che penso a loro nel momento in cui creo un'illustrazione ma fanno parte del mio patrimonio visivo e quindi ogni volta che disegno sicuramente ci va a finire dentro quindi sicuramente sicuramente sì e poi credo che lavorando appunto su un qualcosa che ha a che fare con la psiche umana sull'anatomia sicuramente autori come Schill probabilmente anche in maniera inconscia indiretta arrivano a dare le proprie suggestioni nel momento in cui si mette una matita su carta Chiedo ancora io una cosa a Stefano sempre curiosando sul tuo sito che racconta un po' le cose che fai ho visto che spesso i tuoi personaggi da bidimensionali diventano tridimensionali e non solo diventano tridimensionali ma li animi proprio Per caso chiedo timidamente hai un'idea di riuscire anche a realizzare un tridimensionale di Cesare Lombroso? L'idea ci sarebbe la voglia di farlo sicuramente sicuramente sì e ne stavamo parlando appunto con degli amici torinesi per vedere se è possibile provare a sviluppare un progetto di questo genere sicuramente potrebbe non essere un film di lungometraggio perché chiaramente l'impegno e anche l'interesse dal punto di vista produttivo potrebbe essere un po' smisurato però l'idea di poter creare un qualcosa di diverso quindi magari un film documentario su Cesare Lombroso con le parti di ricostruzione realizzate in animazione stop motion potrebbe essere un'idea da mettere in embrione sicuramente da fare poi in collaborazione anche qui con il museo quindi vediamo, diciamo che la voglia e l'idea ci sarebbe vediamo che cosa succede Allora è finito chiaramente nel libro perché è una fase finale della sua vita importante dove diciamo che poi alla fine ha sballordito un po' tutti perché lui da catalogatore, scienziato, positivista, preciso veramente con i piedi a terra improvvisamente prende questa deriva e segue le teorie spiritiste oltretutto di Eusabia Palladino che era un personaggio abbastanza particolare tant'è vero che tante volte ci rifletto sopra e forse anche fare un libro, uno spin off proprio su Eusabia Palladino potrebbe essere un qualcosa di interessante perché è un personaggio veramente, oserei dire, assurdo ed è stato in grado di ingannare veramente tantissimi uomini personaggi personaggi di scienza diciamo che l'ombroso è solamente uno di una vasta schiera pensiamo ai Conor G. Curie in Francia ma addirittura a Arthur Conan Doyle che era uno che andava in giro probabilmente sbugiardando i vari spiritisti e però lui stesso era rimasto colpito dalla Palladino e in uno dei suoi libri più famosi ne testeva le lodi e lui nell'ultimo periodo segue diverse sessioni di sedute spiritiche e rimane completamente abbindolato da questo tanto addirittura da chiedere scusa per non aver creduto fino a quel momento a queste teorie è un momento, cioè secondo me sono quelle debolezze che arrivano nella vita di ogni persona in un momento in cui magari la morte si sente più vicina in un momento di debolezza quindi credo che invece sia una cosa importante che ci fa capire anche un lato umano di Cesare Lombroso e ce lo riporta in un contesto molto più vicino a noi molto più affettuoso e quindi così insomma e poi chiaramente subito dopo le sue condizioni di salute si aggravano e muore e il suo libro di fatto viene pubblicato postumo quindi successivamente alla morte ed è la sua ultima opera quindi diciamo ecco non lo sottolineo troppo nel libro descrivo il personaggio di Eusapia Palladino questo suo avvicinamento a queste teorie però diciamo che ecco lì mi tengo un pochino freddo nel descriverlo proprio per non prendere una posizione ben precisa Allora le fotografie hanno hanno influito molto chiaramente mi sono basato su tutto quello che a livello iconografico esiste su Cesare Lombroso soprattutto a livello fotografico che poi è da un certo momento della sua vita in poi perché per esempio ho faticato molto a trovare delle sue immagini da giovane ho trovato quel ritrattino sulla tavolozza bellissimo che è l'unico appiglio che ho potuto avere per cercare di ipotizzare un Lombroso da giovane da bambino chiaramente l'ho immaginato completamente l'ho idealizzato come questo bambino un po' paffutello confermo che anche nel nostro fondo fotografico delle foto di famiglia a foto di Lombroso da giovane ne abbiamo una che ci è stata donata quindi ecco diciamo che l'ho un po' ipotizzato, idealizzato per quanto riguarda invece il testo, la costruzione della vita ho cercato di essere il più esatto possibile però poi andando a sconfinare un po' con la fantasia lì dove potevo permettermi di sconfinare anche a livello bibliografico tutto quello che ho trovato diciamo che molte volte mi lasciava perplesso perché andiamo da testi che descrivono la sua vita in maniera molto romanzata dove a un certo punto ti chiedi ma com'è possibile che raccontino questo fatto con questa dovizia di particolari mi riferisco per esempio al libro di Guarnieri gustosissimo, bellissimo, però ci sono delle descrizioni se ne ricordo una per esempio il primo attacco di Angina quando lui cade svenuto e addirittura Guarnieri ti descrive che cade davanti a un vaso contenente la testa di Caino il martellatore, dico vabbè ma Guarnieri non era lì cioè non credo che ci sia un romanzo quello di Guarnieri è un romanzo diciamo che lì diventa un romanzo poi andiamo su testi come quello di Baima Bollone che chiaramente c'è più un'esattezza storica e precisa però diventa quasi una persona che è un discepolo di Lombroso e quindi si pone nei suoi confronti in maniera quasi ossequiosa e quindi non sai quanto puoi prendere per buono quello e quindi così ogni testo dovevo praticamente analizzarlo, scomporlo andare a fare dei confronti e capire come potevo costruire la mia biografia biografia tra l'altro molto succinta, molto stretta perché essendo un libro illustrato non potevo avere tante pagine a disposizione per descrivere quindi diciamo ancora una volta sottolineo che è stata un'operazione molto personale nell'andare a evidenziare le fasi della vita esatte dal punto di vista storico però con una visione personale basandomi su tutto quello che naturalmente potevo avere a disposizione La bibliografia appunto è menzionata, è vero che come dici tu è succinta ma perché se uno va a vedere la biografia di Lombroso non è possibile però ci tengo a dire anche a nome di Silvano Montaldo il direttore che questa sera purtroppo non può essere qua tra noi che una delle cose che ci ha maggiormente colpito leggendo il tuo libro è stato proprio l'attenzione al dato storico essendo Montaldo uno storico è una cosa a cui bada molto e non riuscire a trovare nessun errore in quello che hai scritto questo ci ha fatto davvero particolarmente piacere No e tra l'altro anche è stata mia attenzione andare a leggere e ad informarmi anche su chi era contro quindi anche mettere in bibliografia per esempio il testo Cento città contro il Museo Lombroso perché credo che quando si analizza un qualcosa di storicamente reale è giusto sentire tutte le parti in causa naturalmente poi mi sono fatto la mia idea credo che la mia idea venga fuori dal libro senza che io debba esprimerla però credo che sia giusto anche in bibliografia dare spazio a chi vuole esprimere le proprie idee quindi chi attraverso la bibliografia poi vuole ampliare le conoscenze andare a vedere chiaramente agli strumenti e link per poter fare questo chiaramente non è un libro per bambini anche se è un libro illustrato perché poi appunto ci sono anche dei tatuaggi delle cose insomma che sono un po' scabrose che probabilmente non sono adatte però mi piacerebbe identificarlo con un target di mercato che oggi è chiamato Young Adult quindi diciamo un libro un po' per tutti diciamo che dai 12 anni in su chiunque voglia approcciarsi cioè cominciare a capire chi è Cesare Lombroso quindi semplicemente chi ha una prima curiosità e vuole capire chi era questa figura a mio avviso importante per un certo periodo della storia italiana attraverso un libro di questo genere probabilmente può farlo poi può decidere di abbandonarlo completamente o magari appassionarsi e decidersi di andare ad approfondire con dei testi più ampi più scientifici più descrittivi una figura come Cesare Lombroso quindi mi auguro che possa essere un un primo assaggio cioè un qualcosa che possa creare interesse credo che ci siano molti studi che hanno dei contenuti e degli spunti che tutt'oggi rimangono validi probabilmente è un personaggio che è stato un po' troppo manipolato e quindi probabilmente si è dato troppo peso a quelle che erano delle teorie che sono diventate quelle più conosciute quelle principali e sono state oggi un po' strumentalizzate soprattutto alla luce di tutto quello che è la storia del XX secolo e tutto quello che naturalmente è successo per esempio si parla molto poco dei suoi studi su genio e follia che secondo me sono quelli che invece contengono degli elementi che sono molto più interessanti rispetto a quelli per esempio dell'atavismo e della fossetta occipitale quindi probabilmente poi il mio approccio, ripeto, non è un approccio totalmente scientifico, antropologico è più un interesse nei confronti di un personaggio storico di un personaggio che appartiene alla cultura italiana e per questo poi faccio degli accostamenti tra Lombroso, Collodi, De Amicis perché mi piace porlo all'interno di un panorama storico italiano e non utilizzabile semplicemente per seguire o confutare delle teorie scientifiche naturalmente poi non sono io un antropologo, non sono uno scienziato io sono semplicemente una persona che disegna, che scrive, che racconta delle storie e semplicemente ho voluto raccontare la storia di un uomo che da sempre mi ha affascinato che naturalmente non condivido per determinate sue idee ma mi affascina da tanti punti di vista e credo sia giusto raccontarla per farla conoscere e per far meditare delle persone che magari vogliono conoscere semplicemente questo grazie 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 grazie